ok prova prova ci sei 1 2 pronto ci sono perfetto allora io intanto faccio una intro di chi sei caro giu caro gianni ok quindi sei un software engineer di napoli ha lavorato con il relo per team leader e principal software engineer per compagnie come reply paddy power groupon e ora flo vive in irlanda da più di 10 anni con moglie una bambina bellissima e ogni tanto vi prendo la libertà di dire che sono un suo amico ok è un appassionato di cripto e con il suo sito easy staking.org ci spiega un paio di cose riguardo alle cripto bitcoins cosa sono cosa come possiamo usarle e se un giorno le useremo per prenderci un caffè al bar ok sì dici tutto allora ando adesso la cripto cresta innanzitutto grazie per avermi invitato a discutere con te tutte le cose cripto correnzi e come come sta andando adesso cosa sta succedendo la verità che da fine del 2020 quando secondo me dal punto di vista anche storico il il covid ha incominciato un pochettino a dare segnali di speranza che diversi lockdown sparsi per il mondo potessero incominciare a essere sollevati e anche grazie al all'invenzione insomma dei 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 vaccini il capitale che era stato rimosso sia nei mercati tradizionali della finanza della finanza tradizionale così come quelli cripto sono stati di nuovo reinvestiti infatti abbiamo visto che tante aziende tante compagnie hanno cominciato a vedere una una crescita e cripto in particolare poi nel panorama cripto ci sono una serie di di aziende e di di blockchain che hanno visto una una crescita esponenziale per altri motivi ti fermi già cominci a mettere qui due cosine ehm dicevi blockchain sì sì cos'è cosa che cos'è una blockchain allora allora io vado ancora più indietro si ritorna negli anni si ritorna negli anni ottanta quando già in questi anni ehm persone sia nell'ambito financial che nell'ambito della tecnologia cercano di hanno cercato di inventare o hanno teorizzato sistemi eh grazie al quale si potesse trasferire valore tra due persone come esempio Giovanni ed Adriano senza l'utilizzo di terze parti tu puoi immaginare che le terze parti possono essere considerate una banca il circuito visa il circuito mastercard eccetera eccetera questo significa che eh quantunque io voglia trasferire del denaro da me a te o delito in cash e comunque poi la banca garantisce il fatto che questo cash abbia un certo valore oppure dobbiamo ricorrere a circuiti visa eccetera eccetera la blockchain nasce come un progetto ehm teorico secondo cui due entità si possono scambiare una quantità un valore arbitrario non ci interessa quanto però senza ricorrere ad altre terze parti ma semplicemente utilizzando perché una uno strumento tecnologico anche se io utilizzo paypal poi alla fine utilizzo sempre un circuito esatto bancario diciamo non è un real peer peer to peer corretto eh paypal è semplicemente un proxy quindi eh una una piattaforma che sia che si che utilizza un'altra piattaforma sottostante che può essere il circuito swift può essere il circuito visa altri circuiti che garantiscono il reale trasferimento poi dopo dieci giorni trenta giorni cinquanta giorni della del vera del reale valore tra le diverse banche tra diverse entità ma nel frattempo sono loro che garantiscono la transazione quindi se io devo dare dieci euro a te la banca inizia a darti dieci euro e poi ci pensano loro a integrarsi con il resto del servizio e veramente eh scambiare il sistema mentre come giustamente dicevi tu blockchain è una tecnologia che eh garantisce eh che utilizza il la tecnologia per per trasferire una una somma di danaro un valore tra tra due entità ora ovviamente la prima blockchain che è stata inventata è bitcoin lo sappiamo tutti quanti e la la blockchain in generale si si costituisce come un in inglese si dice un distributed ledger anzi decentralized ledger il legger è semplicemente il libro contabile e decentralized significa che è decentralizzato decentralizzato significa che questo software non 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 è eseguito eh su sul mio portatile o nel 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 center nel data center di una banca ma semplicemente gira nell'etere e tutti quanti possono eh configurare il proprio computer e essere parti eh essere parte di questa rete ok quindi tu mandi un euro a a Marco ok io che sono parte di questo circuito della blockchain sul mio computer c'è un piccolo registro che dice Giovanni ha dato un euro a Marco quindi ce l'ho io ce l'hai tu ce l'ha Marco ce l'hanno altre migliaia di persone quindi praticamente quella transazione è registrata trappertutto quindi se tu ci metti di spendere quello stesso euro due volte non puoi perché tutti gli altri dicono no 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 aspetta tu questi soldi già spesi quindi non puoi spendere due volte lo stesso euro e questo e questo è probabilmente il nodo uno dei teoremi fondamentali della blockchain il fatto che eh quando un trasferimento avviene i il i risultati eh i balance quello che resta all'interno del mio del tuo wallet devono essere consistenti nel senso che se io ho dieci bitcoin e tu ne tre io te ne do due alla fine io ne ho otto e tu ne hai cinque ma soprattutto quei due che ho trasferito non li posso spendere due volte e questa cosa qua viene garantita eh attraverso quello che viene chiamato in inglese il consensus protocol o protocollo di consenso in italiano ce ne sono due principali al mondo e sono eh proof of work e proof of stake tutti quanti sanno molto bene del fatto che eh bitcoin utilizzi un'altissima quantità di energia elettrica per far girare il proprio software perché al giorno d'oggi eh sono stati inventati i cosiddetti ASIC miner che non sono nient'altro che dei dispositivi USB possiamo immaginarli che consumano tantissima energia ma ehm consentono di generare ehm eh bitcoin più velocemente qui potremmo parlare di questa cosa per ore non voglio andare giù nei dettagli ma eh comunque ci sono server farm enormi che non fanno nient'altro che eseguire il codice di bitcoin di nuovo ancora e ancora per cercare di minare quanti più bitcoin possibili comunque il proof of cons proof of work eh praticamente è un semplicissimo algoritmo che eh consente di garantire che eh la blockchain in ledger questo ehm questo ledger non venga cambiato nel tempo e che dopo dieci minuti quando il nuovo blocco viene aggiunto tutti quelli precedenti non possono essere modificati e quindi eh si dice che eh dopo dieci minuti ad altri dieci minuti dopo un'ora in realtà sono dieci i blocchi considerati eh fondamentali a ciò che le transazioni che sono accadute dieci blocchi precedenti sono praticamente inattaccabili quando io dico inattaccabili significa che ci deve essere un altro eh un altro cluster di bitcoin che riesce a minare bitcoin così più veloce molto più velocemente da poter riscrivere la storia e cambiare l'ordine delle transazioni eh storicamente è accaduto in altre eh blockchain ma bitcoin fortunatamente non è mai stato attaccato e ho sentito ehm su un altro podcast che praticamente hanno visto che un un poliziotto della FBI ha preso dei soldi bitcoin in modo illegale ok perché ehm nella blockchain eh nella catena sostanzialmente c'era scritto che lui ha fatto questa manipolazione dei soldi e lui come agente federale FBI per quanto riguarda tutti gli altri passaggi della banca come agente diceva no 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 dovete pulire questi record perché io sono agente federale is undercover operation pulite tutto quanto però è stato scoperto perché non ho potuto fare la stessa cosa per quanto riguarda il blockchain quindi diciamo è fantastico questa cosa quindi non c'è più il cosiddetto abuso di potere perché tutti diventano uguali davanti al blockchain esatto esatto e questa è una cosa che ho messo dopo qualche minuto però fondamentalmente concettualmente è una cosa rivoluzionale e come vedi eh non c'è eh dover riscrivere la storia significa andare su ogni nodo e cambiare quel particolare record dappertutto ma neanche questo in realtà è possibile perché poi significa che tutti i nodi successivi i blocchi successivi verrebbero invalidati quindi è una contraddizione in termini eh quindi tecnicamente non è possibile di contro c'è giusto per completare il discorso sono sicuro che ci ritorneremo più più tardi esiste anche un altro consensus protocol che è proof of stake che diametralmente opposto ehm consuma pochissima energia elettrica e si basa su invece di eh basarsi su eh eh eseguire lo stesso algoritmo tantissimi migliaia e milioni di volte al secondo eh semplicemente basa il suo protocollo di consenso sulla quantità di denaro delegato ai nodi eh di un pool eh io la la butterei così eh ci ritorneremo dopo per per i dettagli però è importante sapere che ci sono due macro categorie di eh consensus protocol che eh eh che si basano su questa cosa qua eh una mia curiosità è come passa poi una tecnologia come il blockchain a diventare eh un modo per fare diciamo storing of value è come dove dove c'è il passaggio da tecnologia a quasi essere adesso paragonata all'oro come spesso la gente dice ok compro oro così almeno contro l'inflazione contro lo stock che 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 crolla eh è come si dice un edging e adesso invece non c'è più eh diciamo l'investimento in oro c'è l'investimento in cripto come c'è il passaggio da tecnologia a valore economico base? Ci sono due fattori principali la prima cosa è che bitcoin non era stato disegnato progettato per questa determinata cosa eh la seconda è che eh in realtà questo quello che tu chiami l'oro del del ventunesimo secolo ehm è è stata una trasformazione è nata un'evoluzione naturale di bitcoin ehm all'inizio eh bitcoin veniva semplicemente definita come peer to peer currency ehm poi a caso di eh limiti di natura tecnologica eh noi tecnicamente eh è è scoraggiato andare al bar e prendersi un caffè con con i bitcoin forse lo faremo forse non lo faremo in futuro ma ci ritorneremo tra un attimo la maniera con cui bitcoin è diventato il l'oro del ventunesimo secolo in realtà ha seguito molteplici processi perché eh bitcoin credo sia stato sia nato nel 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 2011 e solamente dopo sette otto nove anni ha visto il suo valore esplodere ehm e questo perché tutta tanta gente è diventata appassionata eh però stiamo parlando di singoli individui non ci sono mai state financial institution che veramente hanno eh avuto il coraggio di eh andare sul mercato e dire ok ne ne compro un po' e li utilizzo come hedge fund per i primi miei hedge fund oppure per eh collaterale o quello che ti pare eh questa è una cosa che è successo più di recente per capire come ci sia arrivati dobbiamo ehm discutere eh cosa è successo dopo che bitcoin è nato quando bitcoin è nato eh è stata è stata una cosa rivoluzionaria e tanta gente tanti scienziati matematici eccetera eccetera si sono appassionati a questa cosa qui e infatti nell'ambito di pochissimi anni abbiamo visto il sorgere di altre eh blockchain come Litecoin come Ethereum ehm eccetera eccetera c'è da dire che bitcoin è da considerarsi una blockchain di prima generazione semplicemente che risolviva esattamente un problema eh scambio di denaro tra due persone senza una terza parte ora questa cosa qua però è molto limitante eh nel senso che se noi vogliamo aggiungere un po' una logica nel senso che io ti pago un fee se tu fai un lavoro per me eh questa cosa non non è possibile perché blockchain perdonatemi il termine è una eh blockchain scusami bitcoin è una blockchain stupida nel senso che si può utilizzare solo per fare una cosa quindi trasferire un valore subito dopo è nato Ethereum e lì c'è stata un'esplosione eh nell'adozione di Ethereum perché eh Ethereum è una blockchain di seconda generazione e la caratteristica di blockchain di Ethereum è che è una blockchain programmabile sono sicuro che tutte le persone nella della nostra età o anche un po' più giovani si ricordano quando è stato inventato JavaScript che tu c'hai la tua bella paginetta del tuo web browser e cominciava a essere molto più interattiva invece di essere semplicemente una pagina statica di testo JavaScript è praticamente quella scintilla che è scoccata dentro Ethereum che ha reso la blockchain eh molto più utilizzabile infatti oggi si parla di DeFi si parla di tantissime altre cose questa cosa qua può accadere chiarisci che cosa è DeFi? Decentralized Finance praticamente è ehm è qualsiasi cosa che può essere ehm eh tante volte si usano sì 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 le cose strane concordo ehm la più strana è che costruire SUV quindi potremmo parlare di questa cosa qua anche di questa cosa magari ne parliamo di un'altra volta però la cosa fondamentale è che eh Ethereum è una blockchain programmabile nel senso che il trasferimento di un valore tra me e te o tra me e te e Marco e tanti altri amici può essere ehm può verificarsi al eh può essere effettuato al verificarsi tra le condizioni per esempio eh io ti riparo il pc e tu mi paghi eh 30 euro fondamentalmente ok? Eh e questa condizione quindi se io faccio qualcosa così che poi il trasferimento accade è rivoluzionario perché tu puoi costruire su una su una base di questo genere qualsiasi eh tipologia di 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 ehm di ehm di prodotto finanziario può essere eh può essere un prestito può essere un investimento può essere uno scambio eh tipo io ti do un bitcoin a te tu mi dai cinque tiri a me oppure possiamo parlare di litecoin di qualsiasi altra eh blockchain ovviamente abbiamo anche blockchain di di terza generazione ehm che sono nate qualche anno fa ehm che offrono la la successiva un altro miglioramento. Nel frattempo però poiché Ethereum era stato eh era ha visto un'adozione molto grande eh e poiché per comprare Ethereum la maggior parte delle volte devi trasferire prima soldi in Bitcoin e poi da lì riconvertirle in Ethereum Bitcoin è diventato un pochettino all'inizio la moneta ehm che ha fatto da tramite da ponte tra il mondo fiat e il mondo cripto e e quindi il valore ha incominciato a aumentare ma stiamo cercando le monete normali tipo dollaro euro esatto per poter comprare Ethereum la prima cosa in passato adesso non è più così ma in passato si doveva sempre passare attraverso Bitcoin ora non è più così ma questo è stata la prima è stato il primo motivo per cui il valore ha incominciato a aumentare ma la verità ultima secondo secondo che ha fatto schizzare il valore di Bitcoin comunque crescere è che eh l'offerta di eh di di Bitcoin è limitata nel senso che non ricordo esattamente in quale anno verrà minato l'ultimo Bitcoin e dopodiché non se ne produrranno più ora se l'offerta questo è una legge eh basilare della 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 finanza moderna l'economia moderna è che dice che se l'offerta è costante e la richiesta aumenta il valore intrinsecamente eh aumenta con con la domanda ehm questo è un altro aspetto eh rivoluzionario che avrei dovuto già menzionare prima ma che lo faccio adesso è che eh i sistemi di cryptocurrency nella maggior parte di loro le blockchain sono anti inflazionari significa che ehm nel tempo la l'offerta aumenta per poi raggiungere il cosiddetto cap eh che è il massimo numero di token o di coin in circolazione per poi fermarsi a questo valore qui e quindi se gli adopters gli utilizzatori di questa prattaforma aumentano il valore non può nient'altro che eh che salire ovviamente ci saranno altre basse si esegueranno cicli finanziari quello che ti pare però dal punto di vista teorico quella è la direzione in cui eh si è andata infatti adesso vediamo che eh 10.000 euro 10.000 dollari 20.000 30.000 adesso siamo nel un ranging fra i 45.000 e i 50.000 adesso ci sono anche le frazioni di bitcoin che valgono tantissimo prima era una adesso una bitcoin sono come dici tu 45.000 euro cioè non è che puoi andare con 45.000 euro giustissimo centesimi di bitcoin quelli ci sono ci sono sempre stati ma erano meno famosi perché non vadevano niente adesso i millesimi di bitcoin vengono chiamati satoshi in in onore di satoshi nakamoto il nome fittizio forse reale dell'inventore di eh di blockchain eh non so dirti quanto valgono ma ehm forse con un paio di satoshi un caffè ce la facciamo un giorno riusciremo a prendere un caffè da satoshi apriamo un bar lo chiamiamo satoshi dobbiamo aprire un bar satoshi pagate soltanto in bitcoin in cryptocurrency si esatto perfetto ok e abbiamo parlato della prima diciamo eh diciamo la prima ondata di bitcoins cryptocurrency poi c'è stata la seconda ma adesso poi recentemente parlavamo della terza esatto perché adesso c'è qualcuno che ha lavorato nella seconda ondata e ha detto aspetta un secondo forse riesco a fare qualcosa di ancora meglio esatto nel cosa hanno voluto fare quando la terza ondata la terza evoluzione ethereum è stato creato nel 2014 e con ethereum tante altre blockchain ovviamente ethereum è la più famosa quando hanno inventato il il linguaggio di programmazione su ethereum si sono veramente molto è stato un successo però si sono anche immediatamente resi conto del fatto che ethereum fondamentalmente si avesse un problema di natura tecnologica secondo cui ethereum un po' gestire e supportare al massimo eh trenta transazioni al secondo dalla trentunesima transazione al secondo in poi si inizia a creare una una coda una q di request di request di transazioni che si accotano non possono essere gestite ehm vitalik buterin charles oskinson e altri founders sono coloro che nel 2014 credo hanno dato vita ethereum e subito sono resi conto di questa di questo limite all'epoca però l'utilizzo di ethereum era molto molto basso e non costituiva un gran problema ehm a causa poi di eh della volontà di voler gestire ethereum in maniera diversa eh eh chelso oskinson e un altro tipo di cui non ricordo il nome che ha poi dato vita vita a polka dot di recente hanno deciso di separare le proprie strade e dare vita a nuovi progetti chelso oskinson in particolare ha dato vita a cardano cardano è come tante altre blockchain una blockchain di terza generazione perché si ehm si è posto come obiettivo il superamento dei limiti delle precedenti due generazioni eh nella fattispecie bitcoin ehm che non ha smart contracts o comunque che non è una blockchain intelligente quote on quote eh tra apici e la seconda è che ehm ethereum sebbene fosse una 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 blockchain programmabile non permettesse di scalare eh virtualmente all'infinito o almeno con la domanda e quindi è così che nascono blockchain come cardano per esempio eh dove la volontà è quella di eh fondamentalmente creare una blockchain che resti e duri nel tempo e quindi eccoci e perché esistono per esempio bitcoin eh poi eh facevi dicevi ethereum poi ne dicevi un'altra che era light coin poi polka dot cardano se vado su un su etoro ne trovo almeno una una settantina di 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 coin o cripto perché ci devono essere settanta cosa fa? C'hanno di diverso? Allora questa c'hanno valore c'hanno valore o soltanto il bitcoin quella che ha valore e diri ma adesso sta crescendo eh o le altre hanno non hanno valore o sostanzialmente hanno cose fuochi di paglia che salgono e poi spariscono? Questa questa è una domanda eh importantissima ehm e ci sono almeno due o tre aspetti diversi di cui dovremmo discutere la prima è che ehm alle origini e stiamo parlando di sei anche solo solo sei o sette anni fa che nel nel nell'era eh cripto sono cinquanta anni cent'anni esatto ehm il problema fondamentale lì era che eh quando ethereum non era ancora nato qual quando tu volevi fare qualcosa di diverso da quello che eh bitcoin fa il semplice scambio di denaro all'epoca quello che si faceva è si creava una nuova blockchain che che facesse è quello di faceva bitcoin più un altro po' le litecoin per esempio è una versione di eh bitcoin ma eh utilizza meno eh risorse hardware. Qua è nata ethereum che è come bitcoin però c'ha gli smart contract e lì c'è stata un'esplosione e con essa ce ne sono state tante altre però non c'è mai stata una blockchain che che riuscisse a risolvere tutti i problemi che c'erano sul mercato e questo poi è il motivo per cui le le bloc una blockchain di terza generazione è nata ma a parte tutti gli aspetti di natura tecnologica ci sono anche aspetti di natura finanziaria estremamente importante di più che questa cosa qua Charles Hoskinson ne parla tantissimo nel suo video introduttivo di Cardano. Lui dice fondamentalmente che i tre problemi principe i tre pilastri su cui Cardano viene eh eh viene fondato sono quelli di eh scalabilità di interoperabilità e di ehm sostenibilità questi sono i tre pilastri fondamentali su cui eh Charles Hoskinson ha deciso di fondare la sua eh blockchain se 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 sei d'accordo ne do una spiegazione di questi tre pilastri per favore grazie grazie lo stavo chiedendo io che ehm perché sono sono fondamentali eh e poi ti faccio vedere come quello che quello che è il il meno sexy che è quello della sostenibilità in realtà è il più importante ed è una cosa che pochi avevano chiaro anche solo cinque o sei anni fa però incominciamo dalle cose fiche dalle cose più sexy dalle cose più eh quelle che si sanno anche di più allora la prima cosa è la ehm la scalabilità scalabilità in 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 ingegneria informatica o comunque nell'ambito tecnologico è la facoltà di un prodotto ehm elettronico ehm o digitale di eh riuscire a ehm garantire un servizio ehm indipendentemente dal dal numero di persone o di utenti che lo stanno utilizzando tu puoi pensare a ehm non lo so a la cosa più semplice è Facebook che centinaia ehm qualche anno fa non riusciva a gestire centinaia di migliaia di persone ma intanto cascava eh ovviamente poi la tecnologia avanza Facebook si è evoluto e adesso tu puoi avere migliaia se non milioni di utenti che sono connessi tutti quanti assieme e Facebook funziona benissimo per tutti e questo è il primo problema fondamentale eh Charles Hoskinson lo risolve con ehm ricorrendo al proof of stake che questo ehm consensus protocol rivoluzionario che naturalmente ti garantisce di poter generare i blocchi del ledger eh uno eh successivo all'altro ogni secondo ogni poco secondi tu puoi aggiungere un nuovo blocco e puoi aggiungere nuove transazioni anche solo l'utilizzo di questa tecnologia ti consente di aumentare il cosiddetto truth put eh che sono le transazioni al secondo e solo per nominare dei eh dei numeri che li ho scritti qua perché altrimenti me ne dimenticavo noi abbiamo che Bitcoin può gestire sette transazioni al secondo Ethereum la prima versione ne può gestire trenta eh Visa che è il nostro bank mat ATM che utilizziamo tutti quanti giorni eh sopporta 65.000 transazioni al secondo quindi stiamo parlando di quattro ordini di grandezza per Bitcoin e tre ordini di grandezza per Ethereum questi sono numeri stratosferici se uno dice eh ma come possiamo utilizzare Bitcoin per andarci a prendere il caffè no non lo possiamo utilizzare per andare a prenderci il caffè quindi dobbiamo inventare qualcos'altro quindi già l'utilizzo di proof of stake ha garantito a Charles Hoskinson di poter ehm così tante altre blockchain per carità del signore ce ne sono tante altre che utilizzano proof of stake che garantiscono eh truth put più elevati eh non sono riuscito a trovare per questa eh per questo momento storico i eh i valori eh di ehm di eh di cartano ma dovrebbero raggirarsi intorno ai mille alle mille transazioni al secondo che ancora questo se lo paragoni alle 65.000 divisa non non regge eh c'è da dire però che sviluppi per aumentare questo TPS sono eh sono già stati iniziati e si parla per fine duemilaventuno o comunque per il 2022 ehm verranno possibilmente rilasciati ehm miglioramenti per aumentare questo trucco ci sono anche altre cose eh relative a quindi Cardano potrebbe essere utilizzato per andare a prendere il caffè diciamo sicuramente Bitcoin no Ethereum no Cardano forse sì in futuro 2022 dopo che abbiamo fatto gli utili sviluppi si chiama Hydra la release nel cui in cui ehm eh la Cardano Foundation dovrebbe rilasciare questo miglioramento di eh di Cardano secondo cui si potrebbe teoreticamente scalare linearmente con la domanda quindi non c'è un teoreticamente non c'è un limite non c'è un limite la la blockchain è stata che fa transazione va continuamente esatto sicuramente ci sarà ci sarà per ogni evoluzione dell'algoritmo ci sarà una hard limit però la eh la la teoria vuole che se questi signori continuano a lavorare come stanno lavorando sicuramente riusciranno a gestire quello o almeno a pareggiare quelli che sono i TPS le transaction per se la transazione al secondo e i sistemi monetari eh più diffusi eh al giorno d'oggi. Quindi il limite attuale di Ethereum e di Bitcoin è stato superato o dovrebbe essere superato in futuro con ADA. È già è già stato superato oggi. Cardano sicuramente gestisce un TPS. Ci sono altre cryptocurrency per carità del signore. IOS, Tron, i6 che sicuramente pareggiano già Visa eccetera eccetera. Però poi mancano di altre caratteristiche che invece Cardano c'ha e che sono quelle di cui che sono gli altri due. Ci sono anche miglioramenti dal punto di vista dell'utilizzo della 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 banda di del networking e anche del compattamento dei dati delle transazioni. Tu sai che blockchain Bitcoin ogni nodo c'ha la copia di tutto il ledger e questa cosa qui sta crescendo a dismisura. Sono giga e giga di dati. È impensabile che ogni nodo della della blockchain contenga tutta la history. Quindi la Cardano Foundation Cardano sta anche pensando a ottimizzare eh il il la gestione dello storage e la persistenza dei dati eh di tutte le transazioni al mondo. Eh ci saranno paper, documenti eh sono stati eh sono under review, sono sotto review di dei delle maggiori università mondiali. Alcuni di questi sono già stati validati e confermati. Eh comunque c'è c'è tantissimo tantissimo studio, tantissima ricerca che stanno facendo anche in questo campo qua. Andiamo al secondo punto che è l'interoperabilità. Eh se se tu vai eh se c'hai un Twitter account e segui un pochettino blockchain e crypto vedi che ci sono due grosse scuole di pensiero. C'è una scuola di pensiero secondo cui ognuno ehm fa il cosiddetto shill del proprio coin che dice no Ethereum sarà la blockchain nel futuro. No Bitcoin sarà la blockchain. Oppure Cardano sarà la blockchain. Oppure c'è Dot sarà la blockchain. E poi ci sono quelli che dicono ci saranno tante blockchain in futuro. Ognuna delle quali si taglierà un segmento del mercato finance che sarà disegnata e sarà performante per risolvere un particolare problema. E ce ne saranno 5, 6, 7, 8, 10 probabilmente che accompagneranno il genere umano per il resto della storia. Ma se ci sono tante blockchain significa che non è che la gestione dei dati o la gestione delle transazioni dei pagamenti tu le replichi su tutte le blockchain. E poi la cambi un po' di qua, la cambi un po' di là. Le blockchain dovranno parlare fra di loro. È impossibile avere 10 blockchain al mondo e non c'è interoperabilità. Cardano è stata disegnata dal giorno in cui è stata fondata come una blockchain che può parlare con Bitcoin, può parlare con Ethereum, che può parlare con Litecoin. Pochi mesi fa fu annunciata questa cosa qua. E quindi Cardano sa quando qualcosa accade su un'altra blockchain e può agire automaticamente. Proprio in questi giorni qua, anzi tra pochi minuti ci sarà il rilascio della... inizierà la Mary Era. In Cardano ogni volta che si attraversa uno sviluppo particolare viene creata, viene definita una nuova era. La Mary Era praticamente gestisce, consente di prendere un token dalla rete Ethereum, bruciarlo su Ethereum e crearlo come per magia nella blockchain Cardano. Una piccola digressione. Non so se DeFi, la finanza decentralizzata, si utilizza i cosiddetti native token, o meglio i non-functional token di Ethereum. Questi non sono nient'altro, chiedo scusa, non sono nient'altro che piccoli smart contracts che sono stati scritti in maniera particolare e contengono delle informazioni nel loro interno. Sulla rete Ethereum non vengono scambiati solo i token Ethereum, ma vengono scambiati anche questi smart contracts che dentro hanno un piccolo codice che fa delle cose. E con questo codice tu puoi creare altre, puoi creare altre coin, altri token. Ora, questi token hanno una propria vita e possono essere gestiti indipendentemente. Il problema è che quando la gente si scambia su Ethereum questi token, cioè Ethereum è così intasata dal punto di vista del traffico che una richiesta che viene fatta adesso viene gestita fra 20 minuti, un'ora, due ore, se paghi il fee minimo, perché tu vorresti pagare il minimo. Tante persone però che vogliono la propria transazione gestita immediatamente incominciano a pagare 10, 20, 30, 40, 50 dollari, 60 dollari, 70, è impensabile. Magari tu compri un token da 150-200 dollari e paghi 60 dollari di transazione. È una follia. Ora che succede? Che Cardano, che era stata disegnata con questa cosa in mente, ti dà la possibilità di prendere questo token dalla blockchain Ethereum, spostato sul Cardano e averlo trasferito per 10 centesimi, 15 centesimi di dollaro, neanche di Cardano, di dollaro. Quindi diciamo è come se Cardano avesse un cambio valuta già integrato dentro. Su Cardano, se tu compri, se tu c'hai il token ADA o c'hai qualsiasi altro token, queste due cose vengono gestite nella stessa identica maniera. Quindi creare una nuova coin, un nuovo coin, il Giovanni token, l'Adriano token, su Cardano, ti costa quasi, cioè facciamo, facciamo il coffee token, il token che puoi utilizzare per andarti a prendere il caffè, costa 70 centesimi, prezzo fisso. Andiamo sulla blockchain, ma cazzo no, non ho un'idea. E quindi vengono gestite nella stessa maniera. Quindi se il mio stake pool operator, il mio piccolo serverino che compone Cardano, quando gli arriva uno scambio di ADA o gli arriva uno scambio di coffee token, fa esattamente la stessa cosa. In inglese si dice first class citizen, proprio cittadino di prima classe. E questa cosa qua è fondamentale. Con elevato numero di transazioni, token che vengono gestiti esattamente nella stessa maniera, è anche più facile per utenti, per me e per te, creare un nuovo token. È semplicissimo. Mentre con Ethereum è molto più complicato perché devi scrivere un contratto che gestisce un token. Un po' complicato. E questa cosa dell'interoperabilità è di un'importanza fenomenale, perché questo esempio che ti ho fatto adesso del convertitore di IRC token, IRC20 token, di IRC20 token, 20 token, è importantissimo e fenomenale. Ma ci sono tante altre cose come transaction metadata, possiamo stapparla qui ore e ore. Però tantissimi miglioramenti sono stati fatti per fare dell'interoperabilità tra blockchain, una cosa che 5-6 anni fa nessuno ci pensava, un pilastro fondamentale di una blockchain moderna, per questo blockchain in terza generazione. E se non hai domande, cerco l'interoperabilità, poi andiamo a parlare della cosa meno sexy, ma probabilmente più importante. Domande? Andiamo avanti. Ci sono, ma sono esterne a questo discorso, quindi ti lascio continuare. Allora, l'ultima cosa, e qui vorrei veramente catturare l'attenzione delle persone, è quella della sostenibilità di una blockchain. Prima di spiegare come Cardano affronta questa cosa qua, dobbiamo ritornare un attimo indietro nella storia, dobbiamo pensare alle due modalità che sono state scelte in passato su come sostenere e finanziare gli sviluppi di una blockchain. Allora, il primo è quello di tipo patronale, tipo Patreon, come ci abbiamo molto diffuso adesso su internet, dove la gente, dove una persona vuole essere sponsorizzata da altre persone e quindi viene finanziata in questo modo qua. Non ho un esempio a portata di mano, però ci sono istituzioni che vogliono che alcune blockchain continuino a crescere, quindi portano del capitale e dicono evolviamo questa blockchain in questo modo qua. Ripple, per esempio, è un esempio. La Ripple Foundation ha raccolto soldi per cambiare XRP in una certa maniera. Ovviamente lo sviluppo in questo modo qua è solamente uno sviluppo da parte degli investitori, nel senso che gli investitori cambiano la blockchain in una maniera a loro consuma, che fa bene a loro, però non vanno a chiedere agli utilizzatori di Ripple come vogliono che la blockchain evolva. E questa è una modalità. La seconda modalità invece è con l'Initial Co-Offering. Noi sappiamo bene che anche nella finanza tradizionale ci sono i cosiddetti IPO, che sono Initial Public Offering, che sono metodologie fantastiche per iniziare un nuovo progetto, perché tu hai questa iniezione di capitale enorme all'inizio e tu poi inizi a fare i tuoi sviluppi. Ma dopo 4, 5, 6 anni, quando il capitale incomincia a scarseggiare, poi è difficile, fai un altro ICO, e se l'ICO va male, come fai a continuare? Non ne puoi fare all'infinito, perché poi la gente si stanca. Ma soprattutto non c'è una maniera di decidere quelli che sono... non riesci a vedere quello che la gente vuole, nel senso che gli utilizzatori della tua piattaforma come ti fanno a dire se sono contenti o meno del prodotto che stai costruendo, eccetera, eccetera. Allora, Cardano cosa ha fatto? In realtà si sono ispirati a un modello di un'altra blockchain, Dash, che praticamente funziona così, e loro l'hanno riadattato e hanno aggiunto un paio di cose. Allora, in Dash, ogni volta che un nuovo blocco viene aggiunto nella blockchain, come tutte le blockchain, paga un piccolo compenso, una piccola ricompensa all'operatore che ha minato quel nodo. Quindi tu immagini che ci sono 100 nodi, a turno ogni nodo crea una nuova transazione, persiste il blocco con tutte le informazioni e questo nodo prende una ricompensa. Dice, ti è top, beccati sti 10 Bitcoin, 10 Dash, quello che è. Ora, di questa ricompensa, una piccolissima porzione va a finire nella banca decentralizzata della blockchain stessa. Quindi c'è questo tesoretto, che è in continua crescita, che viene rifornito a ogni blocco di un ADA, un Dash, un questo, un quello. Ovviamente, col passare del tempo, questo tesoretto aumenta. E aumenta specialmente poi se la cryptocurrency e la blockchain hanno successo. Ora, che succede? Che tu puoi utilizzare questo fondo, che si autogenera, come una sorgente di denaro per pagare i successivi sviluppi. E quindi già abbiamo questo fantastico loop cerchio che è un ciclo che sostiene se stesso. E questa è la prima... Se lavori bene, diciamo, come developer, perché la gente lo usa. Più lo usi, più una piccola percentuale di queste transazioni vengono, ritornano, diciamo, agli sviluppatori, a Cardano Foundation, e loro lo utilizzeranno per fare ancora migliori sviluppi. Quindi la gente è più... E quindi c'è un, diciamo, un loop virtuoso. Quindi l'incentivo sta... Attenzione, questi soldi, questi soldi non vanno alla Cardano Foundation. Questi sono i soldi della blockchain per sé. Attenzione. La Cardano Foundation ha i suoi fondi. Attenzione, eh. Cardano Foundation sta seguendo il suo path per costruire Cardano, ma c'è un'altra piccola parte all'interno di Cardano che può essere utilizzata da persone come me e te che vogliono sviluppare qualcosa su Cardano. O migliorare l'algoritmo di Cardano, oppure possibile, raro, però possibile, oppure che vogliono costruire una decentralized app, oppure DAP, come si chiamano, e fanno una proposta. Allora c'è questo progetto che si chiama Catalyst all'interno di Cardano dove tu, tipo un forum, e dici io voglio creare questa DAP, oppure voglio fare questa... voglio diventare un ambassador Cardano, oppure voglio diventare un professore spiega Cardano e bambini a scuola e tu fai questa proposta, ce ne sono centinaia, ce ne sono migliaia. Poi cosa succede? Che gli utenti Cardano che si sono registrati hanno il cosiddetto diritto al voto, perché io ho il mio wallet con un certo quantitativo di ADA e mi registro per votare. Quindi io sono un cittadino dell'ecosistema Cardano e esiste il Fond 1, il Fond 2, i primi due fondi sono stati già chiusi, il terzo si voterà adesso, il quarto fondo è stato iniziato proprio adesso, è stato lanciato proprio adesso e le votazioni saranno fatte penso a fine marzo, mi pare. Comunque è una roba leggera. Ok, quindi nella transazione si crea un piccolo fondo di beneficenza. Sì. E poi... Diciamo, e tu dici io volevo fare con questi soldi, volevo fare questo progetto che è un progetto diciamo di avere uno scopo positivo per il discorso inerente dimmi. Inerente al progetto ok, perfetto. C'è tanta gente per esempio che sta facendo training, sta facendo educational channels come YouTube channel, Twitter, tutte queste piattaforme qua, TikTok, you name it. E lo fanno in lingua ovviamente perché l'ecosistema parla inglese ma poi c'è una fortissima comunità medio orientale talandesi, indiani, cioè incredibili, io non ci credo che ho visto questa cosa qua. La comunità ispanica è enorme. Argentina, Venezuela, con tutti i problemi di inflazione che c'hanno, Spagna, eccetera, eccetera, è enorme. Un po' più piccola c'è anche quella italiana, infatti io sono qui anche per questo motivo qua, per cercare di crescere questa comunità sul cartello. E quindi che succede? che tu fai la tua proposta e poi chi ha un wallet Cardano può votare. Le proposte che vengono votate di più ricevono una piccola frazione del fondo totale che era stato allocato per le particolari iterazioni del fondo. Fondo 1, fondo 2, fondo 3, fondo 4. E questa cosa qua è la cosa che consentirà a Cardano di nascere, crescere, ma soprattutto continuare a autosostenersi in futuro. Ora, se la Cardano Foundation fa altri investimenti, accordi con altri investitori per prendere altri soldi per fare della blockchain ancora più potente, è un altro paio di maniche. ma chi vuole cooperare, chi vuole sostenere la blockchain ha anche accesso a questo tesoro della banca decentralizzata di blockchain. E questa è una cosa fondamentale perché tanti progetti in passato si sono fermati. Quando volevano implementare Segmentation Witness su Bitcoin, che è semplicemente un algoritmo per ottimizzare le transazioni e fare di Bitcoin una cosa un po' più veloce, metà comunità ha detto non lo voglio altra metà della comunità ha detto facciamo e quindi c'è stato Bitcoin e Bitcoin Cash. Poi Ethereum hanno sbagliato a fare una cosa su uno smart contract e hanno bruciato centinaia di migliaia di dollari e ovviamente hanno bussato la porta di Vitaly Buterin e hanno detto guarda che il tuo team mi ha appena bruciato centinaia di migliaia di dollari che vogliamo fare ho fatto non ti preoccupare hanno fatto il rollback delle transazioni per riprendere questi fondi e hanno dovuto forcare e quindi adesso ci sta Ethereum Classic e l'Ethereum come lo conosciamo noi che tra poco diventerà Ethereum 2.0 quindi come vedi avere un disegno di questo tipo qua che autosostiene la blockchain è fondamentale perché ti dà una possibilità di decidere quali sono quelle cose che verranno fatte dopo e soprattutto avere una sorgente di introiti tu avevi passato sopra un punto che è importante secondo me tu parlavi delle comunità Cardano una di quelle sono quelle ispaniche ok e dicevi dell'inflazione in Argentina da quello che so io anche il Venezuela ma come mai Cardano viene utilizzata contro l'inflazione in paesi come il Venezuela l'Argentina o luoghi dove la moneta è molto più soggetta a volatilità diciamo così perché qual è la connessione tra Cardano e inflazione ecco perché Cardano è diciamo il nuovo oro contro l'inflazione ecco la maggior parte così come come Bitcoin anche Cardano è un sistema anti-inflazionario nel senso che ci sarà un limite massimo di Cardano che verranno di ADA dovrei dire verranno rilasciati sulla blockchain e quindi anche in quel caso poi per la legge di domande dell'offerta che abbiamo discusso prima il valore intrinseco di Cardano nel tempo è destinato ad aumentare ovviamente ci sono tanti altri fattori che determinano l'attuale valore di ADA però in linea di massima in linea teorica basandosi sulla finanza tradizionale domande e offerte dovrebbero regolare il prezzo questa cosa l'abbiamo vista anche in passato in particolare tanti anni fa in Argentina con un ex collega mia mi diceva che le persone che lavorano in Argentina si facevano pagare o in Bitcoin o in Dollari addirittura American Dollars e quindi loro cercavano di evitare il peso sargentino o in questo caso la moneta venezuelana e quindi preso il preso lo stipendio la prima cosa che facevano è comprare uno Bitcoin o adesso comprare una moneta nel Venezuela ma la cosa più importante quindi la connessione è il fatto che la loro moneta si sta depreciando perché chiaramente la politica economica dello Stato è corrotta diciamo così non corrotta politicamente corrotta a livello economico diciamo quindi preferiscono cambiare la loro moneta fiat abbiamo detto peso argentino con questa moneta Bitcoin che non essendo legato al loro alla loro moneta al loro punto di dove sono locati a livello internazionale ok questo qui non ha più è il principio della centralizzazione se io sono in Argentina ma chi possiede Cardano eccetera chi stabilisce il valore di Cardano è disperto su tutto il mondo l'economia dell'Argentina non influisce su quanto valore ha la moneta corretto e quindi diciamo diventa ok io che sono cittadino del mondo non devo essere legato al peso io sono legato a qualcosa che è globale e digitale perché io con un aereo adesso mi sposto all'Argentina all'Europa con 5-6 8 ore quindi che senso ha avere una moneta legata a un stato che è un concetto mi hai dato il link che spero poi lo passiamo anche durante sulle sui dettagli sulle note di questo podcast del fondatore di Cardano che è pauroso cioè è fondamentale se tu ti svegli la mattina e i risparmi di una vita non valgono più niente perché il dizzatore del Congo belga o di qualche altra altro stato si è svegliato e ha bruciato i soldi l'ha venduto ti ha fatto qualcosa per cui l'economia di quello stato con la carriola esatto l'economia di quello stato non vale in più nulla sostanzialmente tu come essere umano e persona ti caschi in uno stato di povertà dopo aver lavorato tutta la tua vita e il concetto che la tua vita è legata a qualcuno una sola persona che potrebbe essere presidente o dittatore o come lo vuoi chiamare tu è pauroso esatto quindi avendo questa decentralizzazione è fantastico io credo che sia infatti da quello che ho letto Cardano in Africa come dici tu spacca sta spaccando adesso c'è c'è della speculazione sul fatto che sembra che la Cardano Foundation abbia iniziato addirittura 4 o 5 anni fa un discorso di cooperazione con uno stato africano o con moltiplici stati africani per cercare di far sì che Cardano venga utilizzata come piattaforma adesso non sappiamo se è come piattaforma economica oppure come piattaforma per individuare le persone insomma per come sistema un gestionale interno dello stato però sembra che tanto processo progresso sia stato fatto e adesso manca quel 5% che in realtà Hoskins in una delle interviste dice abbiamo raggiunto il 95% in maniera super veloce adesso c'è questo 5% che continua ad andare avanti indietro avanti indietro perché ovviamente qua non stiamo parlando di un'azienda di 50 persone qua stiamo parlando di una città si pare o addirittura di uno stato africano e questa cosa qua praticamente darebbe la possibilità alle persone che vivono in questa città stato che volete di avere un'alternativa al sistema economico locale tradizionale tante banche africane non consentono per esempio il trasferimento o lo scambio della moneta locale in in qualsiasi altra moneta del mondo ma si deve sempre passare attraverso lo US dollar quindi pensate il doppio delle commissioni il doppio delle transazioni insomma è una cosa molto complicata economicamente e dispendiosa anche non conveniente fondamentalmente avere la possibilità di poter scambiare se per esempio c'è un artista digitale o un marketing o un marketer o una persona che vive in Africa che vuole lavorare o vendere un bene digitale a qualcuno negli Stati Uniti loro possono farlo invece che trasferire la moneta locale andare in banca eccetera eccetera loro possono fare tranquillamente con ADA con Cardano uno degli esempi che era stato fatto che aveva spiegato Hoskins in una delle sue interviste è che una cosa che lui ha saputo è che capita spessissimo della gente che va in pensione in Africa che prendono la pensione che dopo un mese non ha più valore perché con la pensione che prendevano un giorno ci potevano andare al ristorante e il giorno dopo ce ne va a comprare caramelle fondamentalmente dopo un mese non ci faceva più niente quindi avere un sistema che sia anti-inflazionario inflazionatorio come si dice in italiano comunque dà la possibilità a queste persone di guadagnarsi da vivere ma soprattutto poi contribuire al sistema economico mondiale perché più petine più circolazioni di denaro fai generi più l'economia cresce e si autosostiene e abbiamo visto anche in territori muddy waters o in territori molto pericolosi pericolosi come pericolosissimi che da che doveva essere una cosa per migliorare l'economia interna al British adesso sta combinando un casino enorme ci sono ripercussioni che non erano state previste ripercussioni 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 sì vabbè non erano state previste vabbè prima dicevi una parola tornando alle blockchain una parola hai detto e quella lì diciamo mi è rimasta nella testa facendo un passo nero hai parlato di speculazione non credo che diciamo il termine era contro le blockchain penso che sia più stato il progetto di speculazione dietro la mia domanda è dietro a questa crescita di essere esponenziale durante gli ultimi mesi di in generale di tutte le blockchain bitcoin eccetera eccetera ci potrebbe essere una speculazione qualcuno dietro che sta muovendo delle pedine e cerca in qualche modo di manipolare e chiaramente avere del tornaconto dirti di no è una bugia dirti di sì è una bugia però è altresì vero che grazie per la risposta molto chiara la verità è che nel momento in cui big players o cosiddette whales entrano in quelli che hanno un sacco di liquidità cercano di cavalcare l'onda per generare margini non solo ma anche cercare di come si dice influenzare il prezzo per poi poter vendere al momento opportuno e generare un profitto che sia ben chiaro questa cosa accade sia nei mercati tradizionali e accade anche nei mercati nella finanza tradizionale nella finanza cripto abbiamo visto di recente cosa è successo con le azioni di GameStop e c'è tanta gente su twitter diceva ai financial investor il giovedì martedì nero di GameStop era la giornata tipo nel mondo cripto infatti io su questa cosa ho riso perché tutti i giorni in cripto succede c'è la nuova GameStop quindi ovviamente ci sarà sempre qualcuno che cercherà di trarne vantaggio in maniera sporca e questo è accaduto sempre e continua ad accadere con l'unica differenza che per esempio in cripto anche nel caso di shorting tu non puoi fare shorting di una di un valore di una proprietà che o non hai o non esiste che poi c'è il naked shorting che è un'altra cosa che dovrebbe in teoria essere illegale che è vendere fare shorting di azioni che in realtà non esistono e questo sembra che sia quello che è accaduto con GameStop quando si parla di cripto e tu fai per esempio uno shorting su una delle piattaforme come Binance come Crypto.com eccetera eccetera tu puoi fare shorting solo del valore che realmente esiste su quell'exchange altrimenti i conti non tornano non puoi inventarti bitcoin che non esistono i bitcoin o esistono o non esistono e quindi non si possono fare queste manovre che sono al limite al limite della legalità quindi anche operazioni più o meno sporche in teoria dovrebbero essere meno probabili investitori che cercano di guidare il prezzo purtroppo ce ne sono in quelli tradizionali e ce ne sono anche in crypto quindi diciamo questo parallelo tra diciamo le stock mondo tradizionale finanziario regolamentato e il crypto che attualmente non è regolamentato sostanzialmente c'è il bello e il brutto in entrambi i casi decisamente sì assolutamente sì per quanto riguarda poi la regolamentazione qui stiamo entrando anche in un territorio in un campo più o meno minato se tanti anni fa diciamo le prese di posizioni di governo nei confronti del crypto avevano forti ripercussioni su mercati adesso col tempo e anche l'adozione e soprattutto il fatto che compagnie come MicroStrategy che è un hedge fund ha incominciato a ogni sei ore fanno una press conference abbiamo comprato altri 352 bitcoin abbiamo fatto un altro milione e mezzo di bitcoin Tesla ha comprato un bilione e mezzo di bitcoin adesso insomma ci sono players più o meno grandi ma soprattutto che vengono dalla finanza tradizionale che sono institutional investitori istituzionali adesso non si può più semplicemente dire io banno bitcoin negli Stati Uniti d'America può renderlo più complicato però io immagino immagino che andare contro bitcoin per nazioni grandi come gli Stati Uniti o qualsiasi altra nazione al mondo significa fondamentalmente danneggiare anche la propria economia perché significa che gli Stati Uniti andrebbero contro alcune grossi aziende o le aziende più grosse di rilievo degli Stati Uniti dire no guarda i bitcoin non vanno bene e così metterebbero un bassometro alle nuote al loro vedo diciamo di diversi parallelismi dall'inizio del mercato azionario dove era tanto tanto tempo fa non regolato poi hanno visto che c'era comunque un giro economico che poteva essere vantaggioso per lo Stato essere regolamentato in una certa maniera vantaggioso per l'economia e per la popolazione quindi la regolamentazione ha sviluppato l'economia quando è regolata perché chiaramente fondi istituzionali si sentono al sicuro perché dici ok è regolamentata possiamo entrare ok dopodiché poi un pochino più recentemente la regolamentarizzazione della cannabis almeno in America ma in Italia non so cosa sta succedendo che ha portato a investimenti certo quindi se c'è domanda spesso è inutile remare contro perché quello che succede è che vai a a bruciare valore perché comunque non so i governi combattevano i narcos che importavano la cannabis quindi era più la spesa adesso invece è stata regolamentata al contrario i vari governi hanno prendono tasse dalla creazione di valori che comunque esiste quindi la regolamentazione sono andato in dark night mode quasi quasi mi piace così è molto più intimo la cosa bella della regolamentazione è che porta dentro e fa crescere ancora più velocemente se c'è qualcosa di buono cosa succede se c'è qualcosa di buono il governo o la regolamentazione guarda dentro e dice ok perfetto queste sono le regole se volete giocare queste sono le regole giocate all'interno di queste regole e siamo tutti contenti e quando questo succede i giocatori quelli seri da piccolette fondi investimenti fondi pensionistici entrano in gioco e creano ancora più valore esatto esatto quindi secondo me la regolamentazione penso sia una cosa positiva perché vuol dire che comunque si entra nella fase della maturità esatto non solo ma negli ambiti le criptocorrenti le piattaforme cripto adesso stanno anche attraversando un periodo storico nel quale società informatiche stanno costruendo anche freelance un sacco di gente stanno utilizzando queste piattaforme cripto per dar vita a business non è novità su nelle news del cripto di recente che ci sono tante persone che stanno vendendo i cosiddetti digital arts attraverso i non functional token gli nft ci sono giocatori di basket che stanno vendendo opere d'arte o beni tramite nft a prezzi esorbitanti e questo è un caso ma ho visto gente che fa la collezione di gattini elettronici con un nft sì questo girava su ethereum però non riesco a ricordarmi i criptokit in Europa del genere hanno intasato ethereum per non so quanti giorni per questa cosa ma stanno creando posti di lavoro quindi questo volevo dire che stanno creando posti di lavoro opportunità di lavoro gente che si sta reinventando utilizzando il cripto e probabilmente stanno stanno sopravvivendo anche grazie grazie a questo faccio un riassunto di che cos'è criptokitten sono dei gattini elettronici e sono diciamo non puoi copiarli perché c'è questa chiave crittografata attraverso l'nft quindi non functional token appoggiata da quello che ho capito su ethereum perché sostanzialmente è un gattino con la targa esatto univoco univoco che per la gente diciamo nata intorno al 1980 come me suona un po' assurdo però è anche vero che c'era gente che comprava i tamagoshi e anche la farmland il trattore all'interno di farmville su facebook con soldi veri per far mandare il trattore nella nella piantagione digitale quindi esiste di tutto e va rispettato tutto qua giusto giusto perché far capire la critto kit che cosa sono e il valore all'umanità negatività non esiste non so che aggiungere ma è fantastico io rimarrei anche sulla parte politica geopolitica mi piace quella la gente che si sveglia ancora i soldi per campare il giorno dopo e andare a comprare il latte come pensionato che si è fatto un tantino di lavoro durante la sua vita anche in Africa insomma si devono fare un bel po' di lavoro e poi si svegliano la mattina quando ci hanno 65 anni il giorno dopo essere in pensione non gli vale più niente si potrebbe anche un po' essere arrabbiato diciamo è giusto per questo io vedo diciamo queste decentralized token o coin come qualcosa che può salvare tante parti del mondo dove ancora ci sono questi giochetti dove c'è una persona al potere che può fare il bello e il cattivo tempo di milioni di persone fondamentalmente esatto non vado non digerisco fantastico e non voglio tenderti più più tempo di quello che ho già ti ho preso io sarei contento di fare un episodio due poi questo può essere pure che lo dividiamo in due spezzoni visto che stiamo parlando da un'ora e mezza quasi il tempo vola time flies when you're having fun è diventato anche buio vanno levato la luce fantastico e Gianni ti ringrazio ok alla prossima a te Adriano è stato un piacere un saluto a te e a tutti gli ascoltatori buonanotte grazie a te